Salve cominciamo l'approfondimento degli strumenti di editing con una premessa. I manuali di Sinellerra usano molti termini specifici per indicare gli ispezioni audio video che importiamo nella finestra risorse oppure sulla timeline. Usano per esempio termini ognuno con una ben precisa sfumatura di significato. Io passerò sopra tutto questo e chiamerò clip gli ispezioni importati sulla timeline e sorgenti oppure risorse gli ispezioni nelle finestre viewer e risorse. Il montaggio video riguarda due regni se così possiamo dire. il dominio del tempo e il dominio delle tracce. Sinellerra offre più modalità per intervenire su questi domini. I tipi di editing possibili sono 1 l'editing a due schermi 2 l'editing drag and drop 3 l'editing cut and paste. Possiamo aggiungere una quarta modalità che però non è un metodo completo di editing ma è comunque importante il trimming. La regione attiva è l'intervallo di tempo sulla timeline su cui operiamo l'editing. Può essere l'intera traccia o una parte di essa. Può riguardare una singola traccia o un'intera pila di tracce. Il primo modo di circoscrivere una regione attiva è usare gli in out point. Il secondo modo quindi con priorità minore è selezionare la regione. Se non ci sono né in out point né zone selezionate la regione attiva inizia da dove è posizionato l'insert point e prosegue alla sua destra. In realtà alcuni comandi considerano la regione attiva di lunghezza 0 cioè il solo punto interessato dal cursore e non tutta la timeline alla sua destra. Per esempio il copia e incolla. Ricordo ancora che Sine Lerra usa un editing non distruttivo quindi i sorgenti rimangono non modificati dopo l'editing e perfino dopo il rendering finale. Esaminiamo ora approfonditamente la patch bay che appartiene al dominio delle tracce. Questa zona ha quattro righe di cui una nascosta la vista serve ad abilitare o disabilitare caratteristiche specifiche di ciascuna traccia. Quando si hanno molte tracce nella pila andare di continuo di traccia in traccia per abilitare o disabilitare gli interruttori può diventare operazione lunga e noiosa. Sine Lerra offre tre modi per agire più agevolmente. Uno il classico è noioso cliccare o premere tab sui bottoni di ogni traccia. Due c'è anche una scorciatoia che consiste nel cliccare nel bottone della traccia più in alto e poi tenendo sempre premuto trascinare il cursore del mouse verso il basso passando via via sui bottoni delle altre tracce e attivandole di conseguenza. Mi piace parecchio questo metodo e anche all'autore originale Adam Williams visto nei suoi video lo pone sempre in evidenza. Tre il terzo modo consiste nel fare shift click su un interruttore soltanto. Questo verrà abilitato mentre tutti gli analoghi bottoni sulle tutte le altre tracce saranno disabilitati. E' una scorciatoia che utilizzo di continuo e è comodissima. La prima riga è un'area di testo per denominare la traccia con il nome da noi scelto. Di default abbiamo preimpostate video 1, video 2, audio 1 e così via. Possiamo scriverci quel che vogliamo. La seconda riga ha svariati interruttori. Se sono colorati allora sono attivi altrimenti sono spenti. Il primo interruttore play track in italiano esegui traccia permette oppure blocca la possibilità di riproduzione sulla timeline. Ma cosa ancora più importante è che se disabilitata non permette la traccia video di essere renderizzata. Si otterrà solo un file audio senza video. Ovviamente succede il contrario se disabilitiamo una traccia audio. Altro particolare è se la play track è disabilitata su una traccia che contiene degli effetti condivisi. Le altre tracce non risentiranno di questa disabilitazione. Cosa sono gli effetti condivisi? Lo sapremo solo se mi deciderò a fare dei video sugli effetti più importanti. Per ora non ne ho intenzione. Per finire di parlare di questo interruttore sappiate il suo uso riguarderà principalmente la finestra compositor quindi vedremo meglio la sua utilità nel video 7. Horn track cioè registra traccia che abbiamo già visto precedentemente abilita o disabilita la traccia per l'editing. Ricordarsi che se vogliamo portare più sorgenti in più tracce dobbiamo essere sicuri di avere il giusto numero di tracce armate sulla timeline. Se ce ne sono di meno le sorgenti si riadatteranno in quelle che ci sono secondo una logica che può portare ad effetti indesiderati. Oppure e questo è anche peggio qualche sorgente di troppo non verrà importata. Dipende tutto dalla strategia di inserimento scelta. Lo vedremo meglio più avanti in questo stesso video. Ricordo per l'ennesima volta che la giusta combinazione di tracce armate in combinazione con la regione attiva o con l'insertion point permette un editing preciso senza subire comportamenti inaspettati. Gang feather che non chiamerò mai la gruppa di solvenze visto che sarebbe bastato una semplice traduzione come intreccia sincronizza la manipolazione di una curva su di una traccia con lo stesso identico movimento sulle altre tracce dello stesso tipo con il gang feather attivo. L'uso principale è alzare o abbassare il livello audio di tutte le tracce in maniera sincrona ma funziona su ogni tipo di curva. Inutile dire che per funzionare anche arma track deve essere attiva. Il gang feather infine serve anche in caso di nudge che vedremo fra poco. Draw media determina se le piccons o le waveform devono essere visualizzate lungo la traccia. Le piccons sono semplicemente le immagini del contenuto della clip. Vederle sulla traccia serve ad avere un'idea di che contenuto c'è in quel determinato momento e serve anche a distinguere visivamente una traccia dall'altra. Oggigiorno i programmi preferiscono tracce pulite senza pyhons. Si può deselezionare se vogliamo apparire più professionali o se notiamo che il pc non ce la fa ad essere fluido. Invece disabilitare la forma d'onda delle tracce audio non conviene è fondamentale se si fa editing audio e vogliamo sincronizzare audio e video. Mute track tradotto in non inviare all'uscita è simile a play track e ha bisogno che questo sia abilitato nella traccia interessata. Se play track impediva al video o all'audio di entrare nel rendering. Mute track invece manda tutte le informazioni al rendering ma nell'output non compaiono. Per esempio se attiviamo il mute per tutte le tracce video otterremo un file che ha la traccia video ma questa sarà vuota una schermata bianca o nera mentre l'audio suona normalmente. Tale interruttore agisce sulla curva mute che compare sulla traccia e si può programmare con i keyframe ma a differenza delle altre curve permette solo due valori on e off. Pensate al comando mute di un programma come audacity. Si seleziona una regione che contiene rumori indesiderate e poi invece di eliminare il tratto rendendo la canzone più corta la si rende silenziata. Continua ad esistere quella regione selezionata ma non si sente niente. Al lato di questi interruttori c'è un triangolino che aumenta l'altezza della traccia in modo da rendere visibile anche la quarta riga. Prima però esaminiamo la terza riga che costituisce un unico slider della curva di dissolvenza in inglese fader. Spostiamo il cursore a zero cioè tutto a sinistra la traccia diviene trasparente invisibile così si può vedere un'eventuale traccia sottostante. Se invece lo lasciamo tutta a destra come da default si ha una coprenza del 100 per cento cioè una traccia completamente visibile ed opaca. Nelle altre posizioni intermedie si ha un dato rapporto di trasparenza opacità. Come al solito influisce sulla relativa curva presente sulla timeline ed è possibile usare i fotogrammi chiave su di essa. Il fader di una traccia audio è diverso da quello di una traccia video. Come nel video riguarda l'opacità nell'audio riguarda la dissolvenza cioè la percentuale di suono percepibile. Si può usare per creare insieme al keyframe delle dissolvenze in entrata o in uscita. I fader di varie tracce come già sappiamo si possono intrecciare tramite gang fader per farle funzionare all'unisono. Dopo una modifica sulla curva si può tornare al valore originale o tramite lo slider nella patch bay o sulla curva stessa facendo shift click e trascinando. Tale valore originale di default è 0 per l'audio e 100 per cento per il video. Nella quarta riga, quella generalmente nascosta, c'è un campo di inserimento numerico che si chiama nudge cioè gomitata o colpetto. Imposta uno spostamento, un ritardo che permette la sincronia di due tracce che non risultano sincronizzate, tipicamente fra video e audio. Nella timeline la traccia non viene visivamente spostata, per esempio i bordi iniziali continuano ad essere allineati con tutti i vantaggi del caso, ma quando si avvia la riproduzione il valore di nudge determina quando riprodurre la relativa traccia rispetto all'altra che è partita all'istante dell'avvio. L'unità di misura del nudge può essere in secondi e frame per i video o secondi e sample per l'audio. Possiamo impostare quella più adatta con un click destro nel campo numerico. Al solito per esprimere la sua potenza e flessibilità si può accoppiare al gang fader per agire contemporaneamente su più tracce. Si può immettere il valore numerico esatto o si può assortare la rotellina del mouse. Valori negativi causano un ritardo, valori positivi creano un anticipo. Sempre nella quarta riga c'è il campo pan oppure la tendina overlay a seconda che si abbia una traccia audio o di una video. Il box del panning mostra tanti punti gialli che rappresentano gli altoparlanti, in realtà i canali, che abbiamo impostato nel progetto. Trascinando quadratini gli assegniamo una quantità di suono da riprodurre rispetto all'altro. Si può creare per esempio un audio mono silenziando uno dei due quadratini oppure distribuire asimmetricamente il volume di riproduzione. Basta trascinare il quadratino giallo per impostarne il valore. Nel caso di più di due canali si possono avere comportamenti fuori standard che magari risultano compatibili con alcuni player musicali. Non si può dire cosa verrà fuori e si deve solamente provare. Sineler comunque fornisce delle scorciatoie per ottenere un output standard, velocemente e comodamente. Si tratta delle voci di mappatura audio citate nel video precedente ma che non abbiamo esaminato. Map 1 1 crea tante tracce audio quanti canali ci sono nell'input. Per esempio per creare un suono stereo a 5 canali, il famoso Dolby 5 più 1, servono 6 tracce audio, ognuna rappresentante un canale. Invece Map 5.1 1 serve a ridurre la riproduzione audio dei 6 canali Dolby al semplice suono stereofonico. Le tracce continuano ad essere 6, ma il lettore musicale legge un normale suono stereofonico. Queste scorciatoie sono comode perché Sineler è davvero potente nell'editing audio e il pericolo di creare tracce polifoniche complesse, ma che poi non funzionano bene, è reale da non sottovalutare. Se ve lo state richiedendo io non le ho mai usate. Nel video precedente avevamo visto il menù tracce, ma avevamo sorvolato sulla voce con catena. E' importante aprirla bene per non avere guai durante l'editing. Vediamo come esempio quattro tracce dello stesso tipo, due armate e due disarmate mal riproducibili. Con il menù tracce e il comando con catena, le due tracce disarmate vengano copiate e si dispongono a seguire delle tracce armate. La 3 va dietro la 1, la 4 va dietro la 2. C'è una logica dietro questo ordinamento, ma tale logica può portare a degli imprevisti. se le tracce disarmate sono 3, si arriva a questo risultato. La 3 è la 5 dietro la 1, la 4 dietro la 2. La logica è la stessa, cioè riempire la pila dall'alto al basso e poi ricominciare fino all'esaurimento delle tracce da spostare. Siamo sicuri che questo ci vada bene? E' il solito problema di non aver saputo prevedere il giusto numero di tracce armate. Il primo metodo di editing, cioè quello a due schermi, coinvolge sia la finestra risorse che la finestra viewer. Colgo l'occasione per parlarne un po'. Nella finestra risorse sono elencati gli effetti, le transizioni, le etichette, i proxy, i media e le clip, ma queste hanno un significato particolare e vedremo dopo. I proxy sono solo nella 5.1. Le clip e i media si possono importare direttamente sulla timeline o sulla finestra viewer per il two screen editing. In questa finestra ci possiamo arrivare anche con un doppio click oppure con un click destro scegliendo visualizza. sempre con il click destro si può scegliere visualizza in una nuova finestra per avere una finestra viewer per ogni clip. Questa è una novità della 5.1 ed è limitata solo dalle risorse del pc o dalle dimensioni del monitor. Un utente ha provato con 50 finestre viewer diverse e funzionava. Sempre con il click adesso si può scegliere la voce info per avere dettagli sui nostri sorgenti. Nella 5.1 la finestra info contiene un tasto dettagli che porta ad un'ulteriore finestra con ancora più informazioni. Ci sono ancora molte novità nella versione GG che possono essere più o meno utili. Il triangolino bianco è una Wicons che permette di riprodurre i video direttamente nella finestra risorse ma in piccolo molto piccolo. Mi chiedo a chi mai può servire. Il menu visibilità invece è molto utile. Nella 5.1 ci sono tantissimi effetti in più che sono difficili da ricercare. Una prima facilitazione è usare la ricerca per nome. Ma ancora più utile è andare nel menu visibilità e contassegnare solo i tipi di effetti che vogliamo siano mostrati. Io per esempio ho disabilitato la vista di quelli nuovi cioè gli FFmpeg e i Ladspa perché tanto non li conosco e non li so usare. Togliere questo gran numero di effetti facilita parecchio la ricerca. La finestra Viewer ci permette di caricare, ispezionare e importare nella timeline i nostri sorgenti. Tale sorgente può essere ispezionato fotogramma per fotogramma con lo slider cioè il cursore oppure automaticamente con i tasti di riproduzione, detti anche comandi di trasporto. Si può anche creare una Preview Region per limitare la zona spazzata dal cursore ma questo concetto non lo capisco bene e la cosa mi fa imbestialire. Quindi se qualcuno lo conosce per favore me lo spieghi. So solo che i confini della regione di previsualizzazione si possono estendere o ridurre con il click destro del mouse e trascinando dove si vuole. Nella barra dei tasti sotto lo slider c'è il cronometro del tempo simile ma scollegato a quello della timeline. C'è anche il pulsante per mostrare la barra dei livelli audio. Ci sono tasti per inserire l'abel e per scorrere fra di essi. Si può impostare anche numericamente un salto da un punto all'alto della time bar. Più importanti di tutti sono i tasti per inserire gli in e out point. Ah dimenticavo. Facendo clicco nel destro sul display del viewer si può scegliere il livello di zoom, impostare la finestra a tutto schermo oppure togliere la sorgente dallo schermo. Le operazioni fatte nella viewer sono registrate in una EDL temporanea quindi che non rimane salvata. In questo modo non c'è influenza sulla timeline. Infatti serve l'editing a due schermi per importare la clip nella timeline cioè nel nostro progetto. Vediamo come fare. Inseriamogli in out point per delimitare la regione che vogliamo importare nella timeline. Meglio essere più precisi possibile per non dover fare taglio ritocchi in un secondo tempo. Adesso ci sono varie strategie di importazione della regione nel nostro progetto. Lo splice, l'overwrite, il copy e clip e il semplice copy. Lo splice inserisce la regione selezionata a partire dal punto di inserimento. Il resto della traccia si sposterà a destra di conseguenza. In sostanza otterremo una traccia più lunga grazie all'aggiunta della nuova regione. Al posto del punto di inserimento si può usare anche un in point oppure un out point. Invece la modalità overwrite sovrascrive la regione della sorgente sulla clip della timeline sempre a partire dall'insertion point o da un in out point. La traccia in totale non si allungherà perché la zona esistente sulla timeline viene sovrascritta e non spostata in avanti. Oltre a determinare nella viewer una regione da importare si può determinare anche una regione sulla timeline che vogliamo venga sovrascritta. Chiameremo questa zona regione di destinazione. Questo ci permette di lavorare con molta precisione ma è anche un'operazione delicata e bisogna capire bene come funziona. Se la regione di destinazione è più corta del pezzo di sorgente da importare, la parte di sorgente che copre la regione di destinazione viene sovrascritta normalmente mentre l'eccedenza viene perduta. Poco male, è facile rimediare reimportando da capo ciò che ci serve. Invece se la regione di destinazione è più lunga della clip da importare questa viene sovrascritta tutta ma il resto della regione di destinazione che è avanzato viene eliminata con un accorciamento totale della traccia e questa zona della timeline non sarà più recuperabile. Si può solo ripartire da capo quindi fate attenzione. Il terzo metodo copia il clip non inserisce la regione selezionata della sorgente nella timeline, crea invece una nuova clip e la mette nella finestra risorse alla voce clip. Da qui poi può essere rinominata ed esportata nella Weaver o nella timeline come tutti gli altri sorgenti. Solo la troveremo nella cartella clip e non in media. Ecco perché prima dicevo il nome clip nella finestra risorse era diverso dal significato che gli do io, ma nemmeno tanto è comunque diventato una risorsa come le altre. Il quarto metodo copy è il normale copiare tipico del metodo cut and paste e lo vedremo quindi nel prossimo video. Intanto mi fermo qui perché ci siamo dilungati anche troppo.